Buongiorno, mi chiamo Alessandra Sposetti, il mio libro si chiama Gilda e l'ho fatto alla fine del 2018 durante un corso dell'LT Press, una piccola casa editrice di Rio de Janeiro. Il libro è stampato da me con una stampante a getto d'inchiostro su tre tipi di carta diversa. Questo libro nasce da un incontro fortunato con dei quadernini di ricetta e di etichetta di una signora che era un'ambasciatrice, moglie di un ambasciatore brasiliano, che poi ho scoperto che si chiamava Gilda. Il compito di Gilda e il suo ruolo nella vita era quello di organizzare bellissime cene e anche partecipare di missuosi banchetti. In questo libro io ho voluto immaginare quale fosse la vita quotidiana di Gilda, incrociandola naturalmente con la mia esperienza nella società brasiliana. In questo libro ci sono varie sessioni con vari stili, vari linguaggi, dove uso sia fotografie scattate qui da me, sia immagini di archivio. anche tratte da questi quadernini. Spero che vi piaccia e vi ringrazio. Ciao!